club radio is it ok if i watch club radio roma milan l'unica volta che sono sostituito dopo 25 minuti mi fa ma oggi ho bisogno di te oggi mi devi fare un lavoro scuro va bene non c'è problema oggi dobbiamo vincere qua a milano ha detto lui va bene ok non c'è problema allora noi possiamo essere pericolosi eh tenti di rimanere sempre alto fai l'esterno ma devi rimanere sempre alto se caffù viene da tua parte lasciala andare non guardarlo neanche caffù non ti preoccupare noi dobbiamo essere pericolosi quando perdono palla loro che te rimani da solo che caffù è rimasto alto palla a te andiamo subito dentro a far a cercare di far gol c'è problema dopo dopo dieci minuti un quarto d'ora caffù passa accanto a me fanno il giro palla lascia andare perché non lo sembro io devo essere pronto per la ripartenza ho mai detto un inizio prende palla caffù va sul fondo mette palla gol del mira 1 a 0 dopo 20 minuti li sostituisce e in sala stampa dice eh prima 20 minuti abbiamo difficoltà a gol perché del vecchio non usciva a tenere il caffù allora quello che ho detto mentre uscivo dal campo lo confermo cosa hai detto mentre uscivo dal campo club radio is it ok if i watch club radio